Atollo Markin Poco più che sabbia, alberi o un piccolo vamposto giapponese La squadra di ricognizione di Miller è arrivata una settimana fa Da allora, nessuna notizia L'attesa è finita Entriamo in azione Per quanto ne sappiamo, potrebbero già essere morti Se quel poco che sappiamo dei giapponesi è vero Forse sarebbe meglio che lo fossero